Ciao ragazzi e benvenuti in questo terzo video di oggi. È appena uscito il nuovo trailer di La Casa di Carta parte 5, la prima parte della parte 5 in realtà. Sapete ormai che non ho tantissimo hype per questa serie, mi avete chiesto però di fare la reaction al trailer perché so che molti di voi la seguono e la adorano. A me le prime due stagioni erano piaciute molto, le ho viste tutte e due assieme, quindi non l'ho vista quando uscì, ma l'ho vista solamente dopo. Poi la terza già mi era iniziata a piacere meno, la quarta non mi è piaciuta molto anche se ho fatto una recensione più o meno positiva, riguardandola però ci ho ripensato e spero che questa quinta sia ai livelli almeno delle prime due o anche della terza mi potrei accontentare anche se non mi era piaciuta tantissimo, scusate è arrivato un messaggio naturalmente. Ecco, gente che mi informa che è uscito il trailer della Casa di Carta 5. Comunque, un'ora fa è uscito anche il trailer di Venom, le Derby Carnage, ho fatto già la reaction, in questo momento è in rendering, ma quando pubblicherò questo video quello sarà già stato pubblicato, quindi lo trovate sul canale, ma per non perdiamoci in chiacchiere, magari iscrivetevi se non siete iscritti e seguitemi su tutti i miei social e guardiamo questo trailer. Quando sei rinchiusa da cento ore, sei stata incatenata e sul punto di morire, e hai perso la tua migliore amica. Quelle cento ore ti sembrano cento anni. Scatto matto. Ok. Sembrava Mad World quella sotto, forse lo è. Sì, dovrebbe essere Mad World. Boh, almeno una canzone messa bene, sembra, in questo trailer almeno. Senza padre, senza piano, e senza speranza. Si hanno messo alle corde, però non siamo ancora morti. Allora, registicamente parlando per quanto ne possa capire, sembra fatta meglio della quarta. Però, vediamo. No, la canzone mi piace, almeno questa. Berlino, ci sarà una scena sicuramente, si è vista ora. Chi sono sti tizi? Tokyo Wool, ho visto la maschera. Quello sembrava Gandia lasciato fuori magari come ostaggio e l'hanno trivellato, però comunque ok. Allora, come ho già detto non ho tantissimo hype, la guarderò magari anche in anteprima per fare la recensione. Uscirà il 3 settembre il volume 1 della parte 5, il volume 2 uscirà il 3 dicembre e sarà l'ultimo definitivo finalmente, per questa serie che secondo me sarebbe potuta anche finire con la seconda stagione. Spero non sia peggiore di Elite 4 e credo anche perché sono due serie abbastanza differenti e penso che in questa prima parte della parte quinta e nella seconda ci si concentri di più sull'azione, dato che è il finale e vediamo che sono tutti in pericolo praticamente, quindi mi interessicchia, diciamo così. La guarderò appunto come ho già detto. Ragazzi, fatemi sapere se questo trailer vi è piaciuto, dura un minuto e 52, nemmeno poi così tanto, dura di più quello di Venom, anche perché era il secondo in realtà, quindi penso che questo sarà l'unico della casa di carta, però comunque dura abbastanza poco per essere comunque un trailer e non un teaser per la prima parte. È stato detto che la prima parte della parte 5, scusate queste ripetizioni, avrà già un finale all'interno, nell'ultimo episodio, però non sarà il finale vero e proprio perché quello arriverà a dicembre e in ogni caso, niente, basta, ho finito di dire quel che dovevo dire. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, se non siete iscritti iscrivetevi, attivate la campanella, seguitemi su tutti i miei social, link in descrizione. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, terzo pensiero di oggi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale Andri Passa e chiude. Ciao! 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 Ciao!